Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono tornata più forte di prima con un nuovo video su richiesta perché c'è stata una ragazza che me l'ha chiesto, io sto cercando di accontentare veramente tutti quanti perché non fai un video sui tipi di ragazze in doccia. Chiaramente per motivi abbastanza personali non registro nel bagno, però mi sono portata nella mia cameretta tutta l'attrezzatura per simulare, tra virgolette, la doccia. Chiaramente se vedete il letto in quelle condizioni perché praticamente devo ancora rifarlo, ho cambiato diciamo le tenzuola, ci devo mettere quelle pulite però ho detto faccio dopo, faccio prima i video. Questo potrebbe essere utile per il mio canale. Poi chiaramente devo spazzolare cento volte, prenderli morbidi dopo la doccia, con una spagnetta morbida per tutto il corpo. Il corpo è bello indotato. Devo lavarmi prima il corpo o prima i capelli o magari mettere prima il bagno o schiuma, poi faccio questo oppure viceversa. Veramente non so decidermi. No, mi è caduto tutto quanto. Casino. No, mi è caduto tutto quanto. Casino. Ehi, che cavolo. Chò. 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 Igo Igo che stascazzo Igo che stascazzo Finalmente dopo tre ore Ho finito di farmi la doccia Vabbè credo che sia tutto in ordine Bene ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Chiaramente Vi voglio ricordare che è sempre un video su richiesta Quindi non è proprio stata la mia idea Se vi è piaciuto Iscrivetevi a questo canale Grazie a tutti